Numero 4. CleanMax è un vero e proprio alleato per chiunque desideri una pulizia profonda dei propri tappeti, senza dover investire una fortuna in costosi servizi di pulizia. Dotato di una spazzola rotante, è in grado di pulire in modo accurato e rapido, garantendo un risultato da professionista. Grazie alla sua doppia funzione da aspirapolvere e lavapavimenti, è multifunzionale e facile da utilizzare. Ma ciò che lo distingue dagli altri pulitori è il suo sistema di disinfestazione del vapore, che assicura una pulizia impeccabile e igienica. Il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione. Numero 3. Un'arma potente nella lotta contro lo sporco, il battitappeto pure Power Hoover. Questo dispositivo è stato progettato con la massima praticità in mente, rendendolo facile da trasportare e maneggiare. Grazie al suo lungo tubo flessibile e alla varietà di spazzole incluse, è in grado di pulire anche gli angoli più nascosti. Ma ciò che lo rende davvero un campione è la sua incredibile potenza, che consente di affrontare qualsiasi tipo di superficie o tessuto con facilità. Con un sacco ampio e una lunghezza di tubo e cavo generosa, è perfetto per grandi superfici. Puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione. Numero 2. Il modello di lava tappeti di Bissell è la soluzione perfetta per garantire una pulizia profonda e delicata dei tappeti. Con i suoi 8 kg di peso e le dimensioni di 32 x 38 x 110,5 cm, è comodo e maneggevole da utilizzare. Ma ciò che rende davvero speciale questo prodotto è il suo serbatoio da 3,7 litri, che lo rende in grado di pulire fino a 40 metri quadri di superficie. Grazie alle 12 file di spazzole rotanti, anche lo sporco più ostinato viene rimosso facilmente, senza danneggiare le fibre del tappeto. Trovi il link di questo articolo in descrizione. Numero 1. Questo modello di lava tappeti professionale prodotto da Thomas è un'ottima scelta per chi desidera una pulizia profonda e professionale. Realizzato in plastica resistente e disponibile in un accattivante colore arancione e grigio, questo lava tappeti ha una capacità di 20 litri e un peso di 10 kg. La sua rumorosità è di soli 77 dB, rendendolo uno strumento non troppo disturbante durante l'utilizzo grazie alle sue molteplici funzionalità. Può essere utilizzato per pulire diverse superfici, sia in ambienti interni che esterni. Se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo, clicca il link in descrizione. Grazie per la visione!